Benvenuta in questa meditazione di totale guarigione. Prendi il tuo spazio, mettiti comoda. Inizia ad ascoltare il tuo respiro, inizia a creare questo spazio sacro di totale benessere, di totale introspezione con te stessa. Inizia ad ascoltare il respiro, senti l'aria che entra e senti l'aria che esce. Rilassati, rilassati. Senti l'aria che entra e senti l'aria che dolcemente esce. Innanzitutto ringraziati per questo spazio che ti stai donando. Ringraziati di prendere questa parentesi di vita. Questa parentesi che ti darà forza, energia e un rinnovato benessere. Chiudi gli occhi e inizia ad entrare sempre di più in connessione con te stessa. Lascia andare tutto ciò che non ti serve. Si arrivano dei pensieri, semplicemente li osservi, ma li lasci andare. Rilassati, rilassati. Se ti può aiutare, mantieni la concentrazione sulla punta del tuo naso. E ad ogni respiro entra sempre di più in questo spazio sacro dentro di te. Rilassati, rilassati. E adesso piano piano, lentamente, inizia insieme a me a ripetere mentalmente queste parole. Guarisci il mio cuore. Guarisci la mia mente. Guarisci il mio corpo. Guarisci la mia anima. Guarisci la mia anima. Guarisci il mio sé più profondo. Io sono qui per la più totale delle guarigioni. Io voglio guarire me stessa, il mio cuore, la mia mente, il mio corpo e la mia anima. Io voglio che tutto ciò sia in armonia. Io voglio che tutto ciò fluisca senza sforzo. Guarisci il mio cuore. Guarisci il mio cuore. Guarisci la mia mente. Guarisci il mio corpo. Guarisci la mia anima. guarisci il mio sé più profondo io mi adopero per la mia guarigione io sono parte integrante della mia guarigione che sia mentale emotiva e corporea ripeti ancora una volta queste parole dentro di te rimani concentrata e fai che queste parole entrino sempre di più nella tua profondità senti come queste parole creano un eco di guarigione profonda senti come queste parole ti creano benessere relax e ti riportano a casa guarisci il mio cuore guarisci la mia mente guarisci il mio corpo guarisci la mia anima guarisci il sé più profondo di me lascia andare tutto ciò che non ti serve e segui la strada della guarigione segui la strada dell'ascolto della comprensione della conoscenza perché è l'unica strada perché è l'unica strada che ti porterà la tua verità è l'unica strada che ti porta sempre di più dentro la tua profondità rimani nel qui e ora rimani concentrata ancora per un po' ripeti mentalmente queste parole affinché diventino una preghiera un mantra un inno sacro per te e per la tua vita guarisci il mio cuore guarisci la mia mente guarisci il mio corpo guarisci la mia anima guarisci il sé più profondo di me e adesso con calma con molta calma torna ad assaporare l'ambiente circostante torna a diventare consapevole dello spazio attorno a te ma al tempo stesso a sentire tutta la pace che c'è dentro di te tutta la pace e il benessere che c'è in questo momento presente inizia a muovere qualche piccola parte del tuo corpo che siano le dita dei piedi delle mani le tue caviglie i tuoi polpacci le tue braccia e piano piano la tua testa fai qualche altro respiro e ringrazia ringrazia ti per essere stata qui ringrazia ti per esserti donata a questo momento prezioso questa parentesi di vita che hai scelto in maniera consapevole di vivere ringrazia il tuo cuore ringrazia la tua mente ringrazia tutto il tuo corpo e tutta la tua anima per essere con te e in te in questo viaggio ringrazia il tuo cuore e che prendendo la tua Creek prendendo il tuo cuore e mi piace ringrazia della tua idiotia Prenditi qualche minuto ancora per rimanere in silenzio, per assaporare le percezioni che senti e ancora una volta per ringraziare tutta te stessa di esserti donato a questo tempo prezioso